ed ecco a voi iphone 7 chat black in anteprima smobile blocker potete vedere il materiale da subito si sporca ci sono le impronte dappertutto prima non sta davvero bene bellissimo e liscio scivola un po le bande dell'antenna non si vedono neanche diciamo che tra i design il più bello grazie